I militari della Compagnia e la Guardia di Finanza di Sciacca hanno recentemente individuato in Menfi, in contrada genovese, un'area estesa per oltre 33 mila metri quadrati, su cui insiste un impianto industriale in disuso. In questa zona, addibita fino a qualche anno fa a un impianto di produzione, sono risultati presenti scarti di produzione di calce, idrata e di intonaci per uso edile, nonché un esteso sversamento di catrame. Gli torori uccertamenti su quest'area, grande quanto 5 campi di calce, hanno consentito di appurare, come essa fosse stata a suo tempo gestita dalla società Focat SRL, un'impresa già con sede amministrativa in Valderice, provincia di Trapani, e operante sin dai primi anni 70 nel settore della produzione di calce, fallita successivamente nel dicembre del 2015. A seguito della crisi di liquidità anteriore alla dichiarazione di fallimento e all'impossibilità di sostenere i costi di smaltimento del materiale risultante dallo scarto della produzione, composto da sostanze altamente inquinanti, aveva evidentemente determinato il deposito di tali residui nel terreno antistante e l'impianto da parte degli amministratori della Focat. L'accumulo di materiali in questione ha poi comportato la formazione di enormi depositi a diretto contatto con il suolo e l'aria, oltretutto privi della ben che minima protezione degli agenti atmosferici. Grazie alla qualificata collaborazione fornita dai laboratori di analisi dell'ASPA e dell'ARPA di Agrigento, i finanzieri guidati dal capitano Carluccio hanno potuto inoltre riscontrare come tali rifiuti, composti per lo più da idrocarburi saturi ad alto peso molecolare, avessero un elevato impatto ambientale e perciò costituissero un potenziale pericolo per la sottostante falda acquifara e per la salute umana. Gli esiti dell'attività dell'indagine, svolte dalle fiamme gialle di Sciacca, coordinate dal sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Sciacca, dottor Carlo Boranga, sono quindi confluite nella richiesta di sequestro preventivo dell'intera area positivamente esitato dal Tribunale di Sciacca nella persona del giudice Alberto Davico. Oltre all'esecuzione del decreto di sequestro eseguito, le attività di indagine hanno determinato la denuncia a piede libero dei quattro legali rappresentanti della Focat SRL, per la fattispecie contravvenzionati per la realizzazione della discarica abusiva punito dal testo unico ambientale con la pena dell'arresto dai sei mesi a due anni.